Vai, Leo! Vai, Gaza! Grande, Leo! Mamma mia! Io quando faccio queste messe, mi sento un fenomeno. No, vai, tanto io vado più piano di te. Ma guarda che vado veramente piano. Come prima? Il tuo piano per me è tanto imparare. Opa! 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 Ah, questo mi piace. Opa! Quanto è bello questo pezzo. Opa! Allora! L'altro edito! Marco pensavo che fossi la madonna te lo giuro vestita d'azzurro così pensavo che fossi la madonna si ci sono ti vedo molto da lontano però va bene questo si salta così mamma mia ragazzi tutto e vai dio come va tuo cognato tuo suoccio Marco sei un fenomeno guarda cosa c'è qui attenzione drop dh c'è scritto vabbè questo devo andare meglio che non ci ripenso soprattutto concentrato famoso bancalino di a posto cioè ragazzi io oggi scusa leo ti ho lasciato la bicicletta bravo non hai dato una parolaccia Marco cosa facciamo ad il tuo di me è piaciuto il tuo ad niente la lascia andare che cacchio fai boh io posso andare a casa oggi sbagliato l'ingresso pera sopra ora io sono sti vedi da baci io sono sti vedi da baci e sopra la bc nei passi yeah secondo round ah andiamo proprio su con la dh qui di nuovo ma va a posto se non l'avevo fatta la faccia a destra viene fuori base nella sesta e in parte non 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 La bicicletta ha salvato, e anche di poco. Il problema maggiore in questo momento è che le braccia incominciano a fare cento, il truppone di prima, oppa, e fai come prima, oppa, ragazzi io davanti ha praticamente una volta, la bicicletta. La bicicletta ha trovato il riso. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Sì, è vero, è vero. oh madonna che buono ragazzi a Leo non si sta dietro neanche con la gomma bucata io ho finito tutti i sensi braccia finitissime grande Leo ciao ragazzi stop